Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Craft of Clans o Clash of Clans in Minecraft come volete chiamarlo ragazzi Allora, allora, sono un pochino nervoso e ci saranno anche un po' di cambiamenti nella serie Adesso vi spiego tutto prima di partire a fare qualche battaglia ragazzi Allora, prima di tutto ho levato tutti i friend dalla lista friend Perché praticamente per l'ennesima volta mi avete bucato dentro, sopra, fuori e mi avete rubato tutto C'è qualcuno tra quelli che fa tanto il carino che praticamente non è effettivamente un nostro amico Non sapendo chi è ho dovuto levare tutti Quindi adesso nessuno avrà più la possibilità di entrare nella mia isola tranne Bels e Ildan E mi sembra anche giusto e forse vi disse Perché effettivamente non so chi è stato, quindi mi spiace la fiducia la devo perdere con tutti per colpa di questa cosa E è un peccato perché effettivamente io cercavo di coinvolgervi anche un pochino nella mia isola O anche nelle vostre isole ragazzi Poi un'altra cosa, ho notato che questa serie è diventata tutta perché voi volete vedere i saluti e basta alla fine E effettivamente questa cosa mi ha un po' stufato Sì l'ho iniziata io perché volevo cercare di coinvolgervi anche in quella maniera Però effettivamente è diventata una tassa fissa Quindi non è più una cosa che mi fa piacere al 100% perché è diventata una tassa fissa che voi obbligatoriamente volete E vi arrabbiate anche se magari non la vedrete quel giorno e la vedrete da qualche mese Quindi ho deciso di sospenderle e basta Allora ragazzi, adesso voi mi dovete dire qua sotto nei commenti Se volete che continuo questa serie di Clash of Clans con tutti questi problemi Con tutti questi attacchi continui, con tutte queste gemme a 10 ogni volta che rientro Quindi non riuscirò mai per esuma ad arrivare al tier 10 a questo livello E in più mi dovete dire anche se non vi piace questa serie Un consiglio per qualcos'altro da poter portare il sabato e il giovedì Perché sono i due giorni in cui faccio Clash of Clans in Minecraft Che sarebbe Clash of Clans qui sopra Quindi effettivamente voi dovete dirmi cosa volete veramente ragazzi Adesso io leggerò i commenti e saprò quello che volete Allora, visto che non ho più niente perché mi è stato rubato tutto, spade, tutto il resto Mi è rimasto solo un piccone king che mi ha regalato uno di voi l'altra volta Sono rimasto con il kit golem perché il witch me se lo so rubato completamente I 64 WD token ne avevo messi sopra l'isoletta volante Ma giustamente qualcuno che sta qua dentro mentre sono offline può salire là sopra Quindi mi hanno fregato in quella maniera Avevo levato anche questo come mi avete detto Questo l'ho rifatto adesso per risalire a vedere se c'era la mia robina e non c'era più niente Mi hanno detto pure, tra virgolette, chi dovrebbe essere stato Ma visto che non ho la certezza non lo posso fare Allora io vado a fare qualche attacco e spero di recuperare qualche gemma ragazzi Perché qualcuno di voi mi ha pure detto che riesce a fare 4 milioni con gli attacchi E io non ci riesco e mi ha detto effettivamente non fare qualcosa Prova a fare con slash ride Quindi proverò a fare con slash ride Vediamo un po' che succede Ok ho trovato un'isola che mi sa è già stata griffata però ragazzi Vediamo se mi fa danno quando sto arrivando No, non ha torri particolari e già sarà griffata Vedo un pene Qualcuno l'ha pure ironizzato prendendolo in giro Aveva già l'ossidiana però quindi effettivamente si era difeso a suo modo Allora vediamo un po' se riesco a trovare l'entrata Sta da questo lato mi sa Eccola E' il wizard del livello 1 quindi penso che non ci darà più di tanto Vediamo un po' 38 gemme Quindi prossima isola Ok altra isola vediamo un po' Crazy kill 420 Mi sa che è già stato griffato pesantemente anche lui Perché vedo già aperture da tutti i pizzi E questa cosa non è un bene Per noi e neanche per lui Aia Non mi fanno tanti danni E' un barbariello 2 Ok vediamo un po' che riusciamo a combinare Sciottalo Sciottalo Un po' di lag giustamente come al solito Gemme 0 Quindi è già stato griffato anche questo Vediamo un po' se c'ha qualche robina Ma penso proprio di no Perché vedo che è di livello molto basso Ok provo ad andare di qua No è già stato griffato e penso neanche da tanto ragazzi Perché vuoi dare 390 gold Vabbè prossima isola Altra isola E ho sentito pure il rumore di un gatto Questa è difesa bene Sembra difesa bene Anche se non mi fa danni Ok qualcuno è già salito Vedo da questo piccolo taglio Che c'è qui Allora Non ho cibo Devo mangiare Questa è una bellissima torre del mago Davanti alla mia faccia Allora vediamo un po' se riusciamo Di introdurci Ma guardate che ha creato Oh 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 Questa è una brutta cosa Se rompo la neve Ve la faccio Mi salvo Sì che mi salvo Fate da un beccolo C'hai spera Oddio Danni grossi Mi sono arrivati danni enormi Quindi c'è un'altra torre del mago enorme Qua me sa Eccola Ok Lì c'è un buco C'è una trappola No Sono finito in una delle trappole Ok posso ancora uscire Ho un enderpear Ho una cavolo di enderpearl Vai Lì Lì Perché non vanno Non riesco a tirare l'enderpearl Guardate ragazzi Non mi fa tirare l'enderpearl Perché Non mi fa tirare l'enderpearl Ok ce l'ho fatta Era lag forse Ok Sono finalmente dentro Mangiamo un'altra mela Se ne so andare già una valanga di mela qua dentro Ok Questa è una bell'isola È una bell'isola anche difficile da entrarci C'ha gemme zero Dai non può essere stata griffata pure questa Già Non è possibile E guardate come ha difeso bene però qua Ha messo i cosi per bloccare sicuramente con una cosa dall'esterno Maledetto 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 Quindi è un'altra isola griffata Però era fatta veramente bene Tanto dei cappello a chi ho attaccato Vabbè Prossima isola Eccola un'altra isoletta Ho visto un fulmine sulla mia testa E non vedo l'isola Comin'altro che ho fatto a st'isola Ok Mi arrivano colpi però Ho mezzo cuore Bah Bah È protetta bene Ma non è tutto sto eccezionale In effetti Ok Sono riuscito a scendere qui giù Oh sto trovando delle isole belle oggi eh Tutte già griffate come al solito Però sono grosse queste almeno Che una volta Dai eh Barbaro 2 Guarda che sono qui Gira Mi ti conviene girarti Ok Questo more E ci dà 0 gemme Perché starò già griffato anche lui Che bella cosa Vediamo un po' se c'è risorse qua Oh queste sono piene Quindi anche se è stato griffato Chi è venuto a griffare Non si è ninjaato la roba Gli ha tagliato mezzo un muro d'ossidiana Perché giustamente gli serve l'ossidiana a casa E vediamo un po' se riesco a prendere altre risorse lì giù Ok Prendo queste risorse qua E me ne vado a quest'isola Vediamo un po' se riusciamo a farne un'altra in tempo E ragazzi ho finito il mio tempo Il vuote token di oggi è terminato Ho fatto i miei attacchini ragazzi Tutti a schifo Tutti a schifo E visto che ho 50.000 gemme Giusto perché avevo fatto una piccola farmata di qualche blocco di rubino La di smeraldo Mi vado a fixare sta situazione Perché mi avete rotto tutto il centro Quindi devo ripiazzare la struttura Ecco qua Tanto non c'era niente nelle ceste ragazzi Mi hanno rubato anche dalle ceste qua dentro Pure la roba di pietra e di legno Quindi Va bene così Va bene così Abbiamo perso un po' di robina Che devo farci Va bene ragazzi dai Questa era la puntata di oggi di Craft of Clans in Minecraft O Clash of Clans in Minecraft Come volete chiamarlo Lasciate tanti pollicioni Condividete i video e iscrivetevi al canale se siete nuovi E come vi ho spiegato prima Visto che non so più Andare avanti E anche tutte le situazioni che sono capitate su questo serve E mi hanno dato tanto fastidio Ditemi voi se avete qualche altra idea Per qualche altra serie O volete che continui in questa maniera ragazzi Quindi sto nelle vostre mani Grazie a tutti